Allora sto parlando ovviamente con voi, voi che avete visto il video precedente, chiaramente iPhone X dopo 24 ore siete stati 1500 a schiacciare il pollice in su Allora tutte le volte io mi devo incazzare con voi per farvi schiacciare quel tasto, veramente ragazzi non lo so Rimango basito su questi vostri comportamenti, perché se tutti i video fossero così, ovvero tutti i video 1500 like, 2000, 2005 Finalmente tutti i vostri commenti, ovvero Guerz meriti di più, Guerz qui, Guerz la, Guerz arriverebbe a quello Quindi ragazzi questo è un video confronto, chi sblocca prima con il riconoscimento del volto tra S8 in versione Plus e iPhone X Quindi dovete bombardare un'altra volta il tasto like, il tasto mi piace, il pollice in su, considerare l'iscrizione al canale YouTube se ancora non l'avete fatto E adesso facciamo partire la nostra sigla Partiamo ragazzi subito da un presupposto, secondo me il miglior sblocco in assoluto è tramite il tasto biometrico posto nella parte frontale Quindi tramite l'impronta digitale come ad esempio era in iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7, S7, S7 Edge, insomma su OnePlus 5 Dunque è normale che andando a inserire un display in 18 noni fino a che non si arriverà ad implementare il tasto sotto il display Ovviamente dobbiamo accontentarci con questi ibridi di sblocco, chiamiamoli così Allora vi faccio vedere adesso come si sblocca S8 Plus, allora o tappiamo il tasto power on, power off e andiamo chiaramente a guardare l'occhiolino in alto a destra Oppure possiamo andare a interagire con il tasto che Samsung ha inserito nella lock screen, eccolo qua il tasto centrale E poi ovviamente si sblocca il nostro smartphone Vi faccio vedere adesso come si sblocca iPhone X, allora possiamo fare un tap e poi andare a fare uno swipe in su In molti mi avete detto, Guerza ma non si può evitare questo swipe? No, non si può evitare lo swipe all'insù Alla fine della fiera ragazzi è leggermente più veloce quello di S8 o S8 Plus Ma vi posso assicurare che nell'ambito quotidiano mi sono trovato più in difficoltà col Samsung rispetto a questo iPhone Almeno nei primi giorni di iPhone è così Funziona bene anche quello di iPhone al buio Vi devo dire la mia, anche qua non mi entusiasmo assolutamente il dover sbloccare tutte le volte il device in questa modalità Magari ecco, questo è uno sblocco che funziona bene assolutamente Ma tra il funzionare bene e l'essere produttivo magari in una giornata di lavoro Ce ne passa veramente tanta di acqua sotto i ponti Ecco perché trovo anche in iPhone X uno sblocco da, non da rivedere È la concezione secondo me sbagliata di dover per forza andare a sbloccare il terminale con il nostro volto Che è la sicurezza, ci sono tante cose I prove contro, vi devo dire la mia in ambito quotidiano anche qua Non ci siamo più di tanto In queste prove utilizzerò ovviamente il tasto power on power off Per facilitarmi in tutto e per evitare di tappar prima su S8, prima su iPhone Quindi andiamo a effettuare uno sblocco paritario Allora, sto guardando tutti i due dispositivi Quindi ragazzi, 3, 2, 1 Qui ragazzi capite già chi sblocca prima Ovviamente Samsung, perché? Perché basta tappare il tasto power, guardare il dispositivo e si sblocca automaticamente Praticamente Apple non ha inserito questo Apple vuole fare uno swipe alla clientela Ecco perché il commento del ragazzo nel video iPhone X dopo 24 ore Non mi ricordo il nome ma assolutamente ti menziono Hai ragione perché questo swipe fa perdere tempo Assolutamente sì, fa perdere tempo perché potremo fare come Samsung Ad esempio lo guardiamo che è sbloccato Non faccio lo swipe, vengo subito riportato nella home screen Questa secondo me potrebbe essere la generata da parte di Apple Ora non so io se via software si può effettuare una cosa del genere Ovvero bypassare lo swipe verso un alto Secondo me no Apple ha voluto inserire questo Quindi ragazzi ce lo dobbiamo prendere così Vi ripeto, è giusto un video per mostrarvi la funzionalità dei due sblocchi Funziona bene quello di Samsung Funziona meglio secondo me quello di Apple Ma è più veloce quello di Samsung rispetto a quello di Apple Questo è un po' il riassunto di questo video Per oggi ragazzi come sempre io vi ringrazio, vi saluto Vi invito un'altra volta a schiacciare il tasto like, a condividere il video E noi ci sentiamo ovviamente nei prossimi video